ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare maxi dal case oggi mi trovo in zona portuense proprio su via portuense 758 a pochi metri dall'incrocio con casetta mattei e quello che ti presenta è l'appartamento marylin l'appartamento marylin che è stato completamente ristrutturato nel 2020 e dato luogo insomma questa grandissima zona giorno come vedete con un bel tavolo da pranzo una zona tv separata con un divano angolare e la cucina a vista eccola qui ovviamente la composizione interna consente anche di ritirare su una tramezzatura e ricavare un'ulteriore stanza da letto che potrebbe essere la terza o uno studio però guardate che bella che questa zona giorno con una doppia esposizione a sud e ovest tant'è che è un primo piano ma nonostante questo grazie all'esposizione sud ovest ha una bellissima luminosità come vi dicevo la ristrutturazione stata del 2020 quindi una ristrutturazione completa che riguarda infissi impianti certificati serrande elettriche zanzariere ecco la cucina hanno dato molta importanza alla zona giorno perché sono circa 42 metri più l'ingresso 50 metri questo è l'affaccio che non è direttamente sulla via ma c'è un po un distacco ed è l'affaccia a sud mentre questo laterale l'affaccio a destra la balconata del soggiorno è anzi della sala è accessibile da tre porte finestre questo è l'affaccio sul retro e questa è la zona un pochino più vivibile rientriamo in casa perché ciò che non vi ho fatto vedere forse uno degli ambienti più importanti che ci possono essere una casa che è il locale lavanderia ripostiglio eccoci qui dietro questa porta attualmente è pieno di cose che abbiamo messo per fare il servizio fotografico però c'è un ampio ripostiglio lavanderia con lavatrice asciugatrice e poi da questa porta entriamo nella zona notte eccoci appunto nella zona notte che è ben disimpegnata ed è composta da due bagni e due camere da letto e soprattutto un altro ambiente che loro hanno sfruttato che questo armadio a muro su tutta quanta altezza i bagni sono due tutte e due sono finestrati che la cosa più interessante secondo me di avere due bagni è solente un eccello invece qui tutti e due sono completi e finestrati questa è la prima camera da letto come vedete delle camere da letto sono molto comode e soprattutto hanno l'affaccio completamente opposto alla via portuense quindi sul retro questo consente ovviamente di avere un affaccio più alto perché è una zona collinare e soprattutto di avere più tranquillità ecco qui il secondo bagno anche questo completo di tutti sanitari e quant'altro e la camera da letto patronale anche qui come vedete molto grande che ha l'accesso al secondo balcone quindi il balcone come dice erano due uno nella zona giorno e uno qui nella zona notte come vedete come dicevo è molto più alto di un primo piano l'affaccio sul retro perché la zona collinare e soprattutto senza dubbio molto tranquillo quindi l'appartamento marylin si trova al primo piano di una palazzina signorile con videocitofono e con ascensore e come a completare la proprietà ci sono anche una soffitta e un posto auto e l'appartamento internamente è composto da un salone molto ampio con cucina vista di circa 50 metri due camere due bagni ripostiti lavanderia e due balconi chiamatevi per ulteriori informazioni per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.